bello a tutti siamo in questo prossimo video in cui mi andrò a provare questa roba qua sono dei snack del sesamo che mi piacciono mi piacciono aspetta che cosi è ok che ho comprato dai gastroni li ho pagati 1 euro e 30 se non sbaglio o 1 euro e 20 e quindi non trovo troppo in questo pezzo e chiede come commenta mandato prima ma che leggo sono un po grece non sbaglio non abbastanza buoni però a me piacciono poi non c'erano proprio se sono abbastanza appiccicotti e anche così hai conti a sensi se amare sta roba senza notare un acqua Oppure se non mi metti un fattetto qua sotto così, io adesso poi dobbiamo lavare le mani e ve li mangiate. Non c'è nient'altro tra stessa, non vedo, ho messo la scatola, non mi pagano per fare questa roba lì, lo faccio perché mi piace, poi vedo che questi video mi piacciono. E' un po' di cima. Ditemi come è andata oggi a scuola, come ho fatto prima di scuola, se avete fatto i superiori, ma diciamo, il classico, il scientifico, il linguistico, l'artistico, l'istituto tecnico, l'elimentare. Oggi ho cominciato il terzo liceo, ovvero praticamente il terzo anno, cioè io faccio liceo classico, quindi terzo anno di liceo classico, ovviamente che si chiama l'altro liceo, fino a che mi sarebbe chiamato il primo liceo, però vabbè, il terzo anno insomma. Allora, mi hanno finito la roba. Comunque, volgiate, commentate, inserite, lo fate la link in descrizione, perché adesso lo carico dal telefono, però poi lo rivedo dal computer, quindi poi si mettono tutte le cose, mi ha detto tutto quanto. Spero che vi sia piaciuto, e se volete attività di questo genere, spolliciate, che io ho, che ne so, 4-5 like per farci, anche se sto vedendo forziettamente un altro da poco, dubbio ovviamente. E' bello.